Siamo arrivati a martedì 26 marzo bentornati su Ciper TV inizieremo la classe di oggi subito con la costruzione di un heavy set cioè di un set pesante fatto da sette deadlift partendo da sotto il ginocchio con i blocchi sarà meglio ma altrimenti possiamo costruire i blocchi utilizzando dei semplicissimi bumpers a seguire per gli advanced 1500 metri raw e 3 round 4 time con 12 deadlift e 12 box jump Intermediate beginners invece faranno il WOD classico chiamato Christine cioè 3 round con 500 metri raw 12 deadlift e 21 box jump come al solito sulla grafica qui di fianco trovate tutte le informazioni necessarie buon divertimento buon WOD e a domani per un'altra classe insieme su Ciper TV